Giga Factory Termoli, i consiglieri Greco, Primiani, Gravina hanno illustrato l'interrogazione al Ministro Urso e le iniziative a livello regionale necessarie a chiarezza per i lavoratori e sulle risorse destinate all'automotive. C'è tanta preoccupazione oggi relativamente al settore dell'automotive, soprattutto in riferimento all'investimento che aveva promosso Assisi qui in Molise, parliamo di 500 milioni di euro, parliamo della realizzazione della Giga Factory che oggi è fortemente messa in discussione, bisogna fare assolutamente chiarezza perché ne vale dell'economia del Molise e dei livelli occupazionali del Molise, oggi tutto ciò è fortemente messo in discussione e lo dico anche facendo un appello al governo regionale che cosa intende fare sui fondi FSC, fondi di sviluppo e coesione, potrebbero essere fondi importanti per rilanciare l'intera filiera. Sarebbe folle per il Molise, per Termoli ma anche per l'Italia perdere un investimento così importante per un settore così strategico nella politica industriale. Più di un terzo del PIL regionale deriva dall'automotive e deriva dallo stabilimento di Termoli, siamo in una stagione di riconversione industriale, siamo di fronte poi tra l'altro ad un'ipotesi di investimento che sulla carta c'è ma che continua a essere rinviata e quindi crediamo che lo Stato debba fare la sua parte attraverso una concessione di un finanziamento importante sulla falsariga di quello che ha fatto anche BP France in Francia e perché noi ipotizziamo anche un aumento di capitale attraverso l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale di Assisi che ricordiamo è non soltanto Stellantis ma anche Mercedes e Total Energy. Quindi non possiamo perdere questa occasione.